Fred Film Radio Torino 35esima edizione sono Angela Prudenzi e saluto qua accanto a me David Grieco e Steve Della Casa Ciao Angela Ciao David, oggi è un giorno molto importante per te perché ti viene consegnato il premio Adriana Prolo che è un premio che negli anni è andato a personalità del cinema che si sono particolarmente distinte nel corso della loro carriera tu sei un cineasta poliedrico, poi sei tante cose che effetto ti fa? intanto sono un impostore perché l'idea che diranno questo premio a me ancora non riesco a metterla fuori infatti lui è dietro questa macchinazione no, l'unica cosa è che io sono affetto da una malattia piuttosto grave che ultimamente è legata anche all'identikit dei serial killer che non ci sono estranei che non mi sono estranei io soffro di personalità multiple e qui improvvisamente l'hanno messa tutti insieme non lo so che effetto fa io stesso ho riunificato mi faccio un'impressione strana a volte mi riconosco, a volte non mi riconosco ma la mia vita è stata assolutamente così in quale personalità ti riconosci di più? sceneggiatore, regista, autore di programmi radiofonici di sceneggiature per la televisione e per il cinema qual è il ruolo? quella che secondo me le riassume tutte è il giocatore d'azzardo che è una delle mie personalità e che in qualche modo le riassume tutte perché non riesco mai a fare le cose in modo normale se non c'è un coefficiente di rischio molto forte non mi entusiasmo infatti con questo signore che è qui alla mia destra cominciamo un programma radiofonico che ancora esiste ma stento a credere che ancora esista che si chiama Hollywood Party e che cominciò con Aldo Grasso che allora era il direttore della radio e che mi disse voglio che lo faccia tu perché tu sei un giocatore e siccome fra tre mesi ti seguo questa fu la parola a te non farà molta impressione mentre magari un altro rimane scioccato io dissi mi pare una premessa ottima e poi appunto uno a volte ci riesce proprio per questo proprio perché la probabilità di riuscita è talmente esigua che quindi dai fondo a tutte le tue possibilità adesso a parte gli scherzi io sono un po' fatto così se mi proponi una cosa semplice lineare e facile c'è caso che non mi ecciti se mi proponi camminare sempre sull'orlo di un burrone mi scatta qualcosa poi è chiaro uno invecchia prima o poi precipita giù nel burrone però insomma questa credo sia la mia caratteristica principale tra le personalità che non ti hanno corrisposto per niente è quella dell'attore perché l'hai fatto hai sordito come attore ma poi ti sei allontanato dal set infatti quella è stata un'altra impostura un altro equivoco era la somma di due cose semplici e casuali cioè una bella faccia da cinema poi allora il cinema parliamo degli anni 60 il cinema italiano è sempre stato un cinema di facce all'epoca era essenzialmente un cinema di facce unita al fatto che senza nessun merito conoscevo già da ragazzino buona parte del cinema italiano che transitava a tutte le ore per casa mia quindi la somma di questi due fattori ha fatto sì ma perché no ma guarda che faccia io ovviamente ho assecondato questa cosa che poi è successa quando avevo 15 anni e poi insomma un po' come Peter Sellers in Hollywood Party appunto non per citare che all'inizio appunto fa questa comparsa indiana e distrugge il set si siede su un detonatore e fa scoppiare un fortino che hanno costruito chissà in quante settimane di lavoro ho fatto anch'io i miei guai e ho detto anche guardate ma se ve lo siete messo in testa voi che io sono un attore io non sono un attore in modo più assoluto però la passione per il cinema c'era c'era film da ragazzino prendevo tre tram per andare a vedere un film in periferia magari un film muto e quindi ho cercato strade più congeniali a me ecco quella non mi era congeniale però mi ha regalato qualcosa mi ha regalato l'amore per gli attori io quando lavoro con gli attori anche quelli più rompiscatole io sono sempre molto ben disposto e devo dirti gli altri collaboratori mi dicono ma come fa a avere questa pazienza perché appunto gli attori fanno qualcosa che io non sono minimamente riuscito a fare e quindi li ammiro molto per questo e sono molto disponibile verso di loro e per me gli attori sono l'elemento principale di un film chi ha visto il tuo recente La macchinazione sa appunto quale rapporto sai creare con gli attori Massimo Ranieri assolutamente mimetico sì Massimo è proprio un fratello una Vukotic struggente insomma no ma poi calcola che in quel film ci sono come si usa dire in gergo 60 attori parlanti di questi 60 più di 40 sono dei direttanti cioè gente che faceva l'attore per la prima volta come il ragazzino che interpreta Pino Pelosi e io amo molto far recitare quelli che non sanno recitare in teoria perché sicuramente sanno recitare meglio di me e quindi già parto sempre molto ottimista e poi alla fine se dai questo tipo di fiducia a un ragazzo come una persona che per la prima volta fa un film ti ripaga e sei fiducioso anche rispetto all'audazio che sta preparando o che dovrebbe aver già preparato Steve e che sentirai oggi? penso proprio di sì e tra l'altro ho voluto che fosse Steve perché appunto fra di noi c'è questa strana chimica che c'è dal primo momento che ci siamo incontrati per cui poi alla fine l'imperativo e questo lo condividiamo lui ed io credo come pochi al mondo è non prendersi troppo sul serio e quindi sono molto contento mi pioverà in testa di tutto ma sono felice di questo sono proprio felice che la faccia lui Steve ci anticipi qualcosa? io posso dire intanto che appunto già l'incontro è stato abbastanza memorabile nel senso che Davide è nipote di Ruggero Grieco che è stato uno dei fondatori del Partito Comunista e anche segretario del PC in clandestinità è figlio di Bruno Grieco che era un importante dirigente culturale ha fondato il festival di Porretta Terme ha fatto un sacco di cose negli anni 50, 60, 70 notevoli io però non gli ho chiesto se era parente loro ma se era parente di Sergio Grieco suo zio che firmava i film Terence Hathaway ed erano film di spionaggio 007 all'italiana oppure western o anche poliziotteschi per esempio il regista di La Belva col Mitra che è un film tra l'altro citato anche da Tarantino in Jackie Brown lo si vede sullo schermo del televisore quando sono alla distributore di benzina insomma gli ho chiesto se era parente di Sergio Grieco e lui ha detto di sì ovviamente però forse si aspettava che gli chiedessi se era parente di Ruggero o di Bruno che erano personalità della cultura e della politica molto importanti e diciamo questo approccio anomalo ho poi continuato nel corso dei tempi mi è piaciuto conoscere David sfogliandolo come un carciofo perché uno che le cose che ha fatto non le dice le scopri casualmente frequentandolo oppure perché ti dice ah possiamo chiamare quello perché con lui ci ho vissuto insieme due anni Marco McDowell per esempio chi avrebbe mai detto che Marco McDowell era uno dei migliori amici di David io per i primi due anni questo lo ignoravo completamente poi l'ho scoperto un giorno casualmente infatti da lì poi è venuto fuori il legame e così via oppure che ha scritto uno dei più bei film di Francesco Nuti che è Caruso Pascoschi insomma cioè ci sono veramente delle cose che ho scoperto via via e soprattutto ho scoperto poi una persona con la quale mi divertivo a fare le cose imparavo imparavo a farle non perché me le insegnasse lui ma perché imparavo a buttarmi ci dentro che è una cosa che bisogna fare sempre con grande coraggio e anche liberandosi la testa dalle sovrastrutture perché l'altra cosa che ti insegna è che non devi avere troppe sovrastrutture non devi pensare agli amici come una rete di favori di piaceri eccetera ma come invece degli amici veri cioè lui se guardate il numero di persone che conosce anche importanti in posizioni chiave eccetera a non le dice b si guarderebbe bene da chiedere loro un posto una posizione una nomina e così via e questo insomma in tempi in cui invece gli amici servono solo a umma umma mi è piaciuto molto peccato già avevo pronta una richiesta mannaggia non la posso fare senti si aggiungo che poi molti di questi purtroppo sono anche morti quindi stiamo parlando anche perché appunto poi al di là degli anni che ho c'erano molti di più perché ho avuto la fortuna di avere maestri che avevano 20-30 anni più di me qualcuno ancora vivo ma insomma un premio per quanto alla carriera io credo che debba essere stimolo invece per per continuare a lavorare per alimentare progetti ecco tu a cosa stai lavorando? hai qualcosa che ah sì io assolutamente tra l'altro appunto queste cose sono un po' dei funerali in vita no? quindi io poi siccome non mi rendo nemmeno conto degli anni che ho no? sto preparando tante cose contemporaneamente sto sto facendo un documentario che credo prenderà un paio d'anni a Matera su ho scoperto questo fotografo che tutti conoscevamo che è quello che ha fotografato Pasolini sul set del Vangelo che si chiama Domenico Notarangelo però in realtà io come tutti conoscevo solo quelle foto che credo conoscano anche gli eschimesi e poi ho scoperto invece un un personaggio incredibile più importante secondo me di Salgado di Cartier-Bresson che ha fatto 150.000 foto e non ce n'è una banale non significativa che era anche un antropologo che era anche un dirigente politico per farti un esempio lui ha ci sono 150 ore di super 8 bellissimi fatti da lui e ho scoperto la settimana scorsa i funerali di Togliatti a colori che è una cosa che non di cui ignoravamo l'esistenza esistono solo immagini in bianco e nero dei funerali di Togliatti d'altra parte era il 64 quindi questa è qualcosa che tra l'altro faccio con un collettivo diciamo che sono a capo di un collettivo lì di Matera anche perché questo documentario che andrà sul grande schermo vorrei che fosse firmato da lui Domenico Notarangelo è morto un anno fa è morto 5 dicembre veramente quasi un anno fa e sarà un film di Domenico Notarangelo e questa è una cosa poi un'altra cosa ho scritto un film americano totalmente americano che nemmeno uno un new yorkese di otto generazioni avrebbe avuto il coraggio di scrivere e sto cercando di farlo passando per gli attori perché poi l'unica salvezza oggi ma è sempre stato così sono gli attori cioè se gli attori ti dicono di sì tu le cose le fai io per esempio tutte le cose che ho fatto insieme a Sergio Citti le ho fatte grazie all'appoggio degli attori e quindi se ci riesco sarà un film con grandi star americane che lo produrranno anche però ed è un film apparentemente sull'11 settembre dico apparentemente perché sarà bene che io diffonda l'idea che non è un film sull'11 settembre perché loro sono molto più gli americani in questo sono molto più efficienti della P2 cioè me fanno la pelle sicuro come l'hanno già fatto con centinaia di persone se faccio un film sull'11 settembre no è un film sull'11 settembre ma che va oltre l'11 settembre che parla in sostanza della perdita di umanità che abbiamo subito tutti quanti esattamente da quel giorno io due giorni dopo ero a New York quando c'è stato l'11 settembre nel 2001 e da quel momento in poi appunto poi abbiamo visto una catena di orrori che ha riempito la nostra vita in questi 16 anni ed è un film su questo e sul fatto di ritornare indietro a riacquistare la nostra umanità che si va perdendo anche molto ambizioso e anche con un'idea figurativa abbastanza audace e insomma è un progetto al quale lavorerò a lungo penso e poi c'è un altro film su un episodio abbastanza poco noto dell'olocausto che però è un episodio abbastanza curioso rispetto a tutti gli altri e siccome credo sia necessario fare ancora film sull'olocausto ancora di più questo ha qualche marcia in più dal punto di vista cinematografico questi sono i tre progetti poi in realtà passa uno mi chiede fa una cosa la faccio quindi non lo so è tutto molto casuale molto meno pianificato di come te lo dico ti auguro di portare a termine tutti i tuoi progetti aspettiamo di vederli con ansia grazie David Griego premio Adriana Prolo 2017 grazie Steve della Casa grazie a voi Torino Film Festival Fred Festival Insider Grazie a tutti